Buongiorno, sono Anita Rondoni, sono una persona con sclerosi multipla, quindi questa formazione che quest'oggi partirà questi tre giorni qui ad Orvieto grazie alla dottoressa Cometa, al dottor Mosca e all'equipe AISM di Genova è una cosa fondamentale, perché ad oggi possiamo dire, scusate se leggo, la riabilitazione è veramente difficile da ottenere, ci mettono in lista d'attesa, riabilitazione solo per pochi giorni all'anno non basta, chi ha AISM non ha altri aiuti per cercare per prevenire il peggioramento, restiamo senza fisioterapia tanti mesi, la riabilitazione è cura, è una cosa che poche persone ancora hanno compreso questo pensiero e grazie ad AISM vogliamo che tutto a livello nazionale, veramente la riabilitazione è cura per poter, io sono rinata, io oggi sono emozionatissima perché dalla seggio a rotelle sono riuscita ad alzarmi in piedi e sono rinata e voi non immaginate l'emozione di mettere i piedi a terra e muovere i piedi e rendersi conto che è un altro passaggio di vita, quindi grazie alla dottoressa Cometa, al dottor Mosca, a tutta l'equipe e alla fisioterapia alla riabilitazione, dobbiamo allargare questo pensiero a tutti, a tutti i centri, a tutte le persone con AISM perché la dignità e la qualità della vita delle persone è una cosa fondamentale, grazie